Questa settimana la sanità italiana è un importante appuntamento. A Bologna c'è il congresso della federazione I PASVI, che raggruppa i collegi infermieristici in tutta Italia. 400.028 gli iscritti ai collegi I PASVI. Benvenuta da Annalisa Silvestro, che è la presidente degli infermieri italiani. Tante le conquiste che avete fatto in quest'ultimo decennio, soprattutto dall'università, ad un ruolo che vi spetta, è sempre più importante all'interno della gestione delle strutture sanitarie. Però c'è ancora un mare di puntini da mettere sulle I. Assolutamente sì, tantissimi. Avevamo bisogno del processo di professionalizzazione di cui lei stava adesso parlando per poter essere più incisivi e propositivi dentro la sanità. Sappiamo che ci sono, non lo sappiamo solo noi ovviamente, soprattutto i cittadini, ci sono tantissime cose da rivedere, da ridefinire, modificare, cambiare. Noi ci proponiamo di essere un ulteriore elemento di supporto e di stimolo all'intero sistema salute per andare in una direzione decisamente più positiva e più orientata alla risposta ai bisogni dei cittadini. Pensiamo di avere cultura, contenuti, competenze, operatività per poter dare appunto questo contributo. Perché un ragazzo che esce oggi dall'istuto superiore dovrebbe avviarsi verso la laurea infermieristica perché si diventi infermieri con la laurea? Credo al di là della maggiore attrattività che questa professione ha fra i giovani in generale abbiamo ottenuto anche questo traguardo perché c'è una possibilità di lavoro direi abbastanza significativo, perché è una professione che dà la possibilità di progredire nella carriera sia da un punto di vista formativo, si può diventare professore universitario, da un punto di vista gestionale, si può diventare direttore, dirigente di servizi ma anche da un punto di vista proprio tipicamente professionale, quindi approfondire conoscenze e specializzarsi in diversi campi. Ma io ci tengo molto a dire, dovrebbe orientarsi perché è una professione molto bella, una professione d'aiuto che fa stare vicino alle persone, che contribuisce... Quindi ci vuole una grande motivazione personale, non è una professione qualunque fare l'infermiere cioè c'è bisogno proprio di una spinta etica, personale, chiamiamola come vogliamo. Infatti io tendo a dire che uno che diventa infermiere lo è per tutta la vita anche quando non esercita. Senta, Presidente Silvestro, ma c'è ancora, almeno sulla carta ed almeno in alcune regioni mettiamola così, una grossa richiesta di infermieri, cioè mancano infermieri e però anche la vostra professione in altre regioni subisce la disoccupazione in certi casi. Come si spiega questo fenomeno? Un fenomeno che non è legato alla necessità della figura professionale né del sistema in quanto tale è legato alla crisi economica che stiamo vivendo, ci sono moltissime regioni che devono fare i piani di rientro quindi hanno il blocco del turnover e anche regioni più virtuose che non sono in quella situazione difficile devono però contenere molto le assunzioni perché mancano le risorse economiche quindi è un fenomeno di contingenza economica. L'infermiere che è la figura che noi troviamo sempre più spesso e per il tempo maggiore naturalmente a fianco a chi soffre, a fianco al malato e quindi l'infermiere che fa da prima linea anche a tutti i malumori e alle incomprensioni al fatto che uno è malato ma anche la sua famiglia è in una situazione giustamente di bisogno l'infermiere sta facendo il doppio turno stanco e quant'altro si creano frizioni molto più spesso che rispetto al medico per il suo fatto che il medico non lo vede la mattina e poi si vede il giorno dopo. Però come tentare di appianare anche questi rapporti, Presidente Silvestro? Noi ci stiamo molto impegnando per cercare di dare ai nostri professionisti anche quei contenuti che li aiutino nell'affrontare situazioni di disagio, di criticità. Mi permetto di fare un inciso sulla realtà che abbiamo vissuto nelle settimane scorse con i famosi per afflussi al pronto soccorso. Penso si possa dare atto che i cittadini per quanto lamentando una situazione di estremo disagio abbiano però tutti detto che gli infermieri hanno cercato di fare il possibile per attenuare Assolutamente sì, assolutamente sì. Certo che fa un po' rabbia penso da parte vostra dover sempre inseguire in qualche modo queste situazioni nella sanità e quindi metterci dentro tutta la buona volontà ma in qualche modo poi non riuscire a parare molte slavine come quella del pronto soccorso a San Camillo, all'Umberto I di cui abbiamo parlato. L'ultima cosa che le chiedo, dei meccanismi anche legislativi da dover rivedere secondo voi per quel che riguarda la vostra professione? No, dal punto di vista di quadro giuridico riteniamo di essere ben posizionati. Quello che lamentiamo è una scarsa visibilità in termini di forza professionale con un impatto nelle decisioni politiche molto importanti. Noi siamo pieni di idee, abbiamo l'ambizione di poter mettere a disposizione dei decisori, delle idee diverse per come organizzare gli ospedali, per come organizzare l'assistenza sul territorio e su come garantire continuità di assistenza tra ospedale e territorio. Ci diano la possibilità di sperimentarci. La rivoluzione, rapidissima Silvestro, la rivoluzione che vuole fare il ministro Balduzzi sul triage, il cambiare, oggi quando andiamo al pronto soccorso ci assegnano un colore bianco, verde, giallo, rosso a seconda della gravità e quindi della lista d'attesa. Balduzzi dice no, questa situazione va rimescolata, va rivista, anche quella crea essa stessa lista d'attesa. Guardi, prossimamente devo incontrarmi col ministro Balduzzi, credo dirò al ministro che non è questa la soluzione, cioè non è aprendo gli ambulatori dei medici per 12 ore che si risolve, perché il cittadino va dal medico magari alle 8 di sera e poi cosa fa? Chi gli fa le cose, chi gli fa le prestazioni, chi mette in atto l'indicazione terapeutica del medico, quindi quel medico sarà costretto di nuovo a mandarlo in pronto soccorso. Grazie alla Presidente Annalisa Silvestro che è venuta a trovarci ad Ippocrate che dobbiamo chiudere www.rainews24.it per rivedere queste altre puntate, ipocratechioccioarai.it per poterci contattare, se volete vi aspetto di mattina su GR Parlamento con articolo 32 sabato prossimo, su Rai News alle 18 torna Ippocrate il diritto alla salute. Ciao! Ciao!